Con le attività, è stata realizzata con il saggio della regione Sarda, in Prentas 2020-2021, le regionali 22-2018, articolo 22. Salute a tutti i amici di Cosa Sbella, sposa a te più di oggi, sono venuti in Capoterra, in un'altra parte dove c'è un bello mare, in un'altra parte del suo comune, a ruidi proprio in zona del Monte Arcoso, dove c'è la Sbella del suo WWF, che è una delle più mani di Europa e tutto. Ma noi siamo venuti su noi, conoscendo un luogo di Adero, su di Spanto e Bello, che ha tanti inaugurato il De Pago, un museo in una località, una delle località del suo comune di Capoterra, è su noi, un luogo del Porto Mano, dove c'è la Tragresia del Sant'Effisi, dove c'è la Tragresia del Sant'Effisi, dove c'è la Tragresia del Gunisi, e in Gunisi accanto c'è un museo che a noi si interessa di Aderos, e dunque andiamo a comprare su noi, e poi abbiamo conosciuto questo luogo, questo museo che si chiestiona di questo ambiente tutto, ma per usare presto dei sostani dei noi del Capoterra. Andiamo a comprare. E siamo in Zuloi, proprio da innanzitutto, di questa crescita di Sant'Effisi, in noi in Capoterra c'è una Cappiumanno, con Susanto Guerreri. In noi in Zuloi ci sono stati, anche a cattare, di un'insediamento buonico, del quinto, quarto secolo prima di Gesù Cristo, ma questa storia di Capoterra si conta da quando il 1353 Berengario Carlos gli ha fatto distruire e avrusciare tutta questa vita, che è stata tornata dopo 300 anni su quando il Cibì finisce uno. Poi nel 1655 arrivò su Baroni, Girolamo, Torrella, che ha torrato a Populai tutta questa vita di Capoterra, che andò a benirare in San Dio di Azzerri, di Azzerri, da proprio Bidda dei Sant'Effisi, proprio in onore di Susanto Guerreri. E in 1655 ci aveva questa bestemana che Sant'Effisi poi ha fatto passare. Dunque, ma non riuscì a noi, non riuscì a questa puntata di noi, di cosa bella, si è venuto in noi in Capoterra, in località di Sulu, e poi proprio in noi accanto c'è questo domo spadaccino, con questo domo che si racconta i beni, le storie, e tutto il canto, ha fatto il debago, proprio in su mesi di Capitanni, un museo, un museo multimediale, moderno, diadero su dei spantumanni, tutto dedicato a Sustani, di noi di Santa Igia, di tutto il territorio di Capoterra, di tutto il frazione, che ci ha avuto in noi. Dunque, si è andato su un pari, a due conosci, e dunque, a tutti i amici, che si è venuto a tutti i cisti, che si è venuto a tutti i sciri, a questa gente, che si è venuto a visitare, questo museo nuovo, dei Sustani, e del suo luogo, del Capoterra, e di tutto questa zona. Andiamo su un pari. E nel suo museo Mulac, ho chiesto un amico, che si tornava a Tobiae, Gabriele Casso, si è conosciuto, sul museo di Sant'Antioco, mi pare. e in noi, questa bella faena, che hai fatto, noi, in Capoterra, su noi, sul museo, e tutto, del suo Stani, del suo luogo, e tutto tanto. Come stasso a contare, di questo, bello impero, che hai fatto, già, e del suo 15, mi pare, del Capoterra, si incominzavo, e inauguravo. Contasi, questa storia, intanto, di questa bella donna. Salute a Tobia, salute a tutto, su questo, qui si caratterà, e bene bene, su a Casa Spadaccino. Casa Spadaccino, è questa donna, antica, bella, manna, manna, manna. Eh sì, è di Salvini, del Sottocento, prima, era una stazione, ferroviaria, dei proprietari francesi, poi, è stato, comporare, di una famiglia, manna, importante, genovese, che ha fatto, un impero, di agricoltura, in questo luogo, in questa terra, del Capoterra. Un'azienda, manna finessa, ha 8000 ettari. E' 8000 ettari? Sì signora, varianta, dedotto, varianta, amendoa, varianta, acina, varianta, meloni, varianta, dove che tu hai detto? Fammi comprendere, hai rito questa zona, frutti d'oro, e, su, a frutti d'oro, non hai, varianta, limoni, arancio, mandarino, quindi, l'unica cosa che avrà, era i mohi, punti, i nomini, dei luoghi, su onde i bifiri, e, dunque, Gabriele, adesso 15, del Capotanni, è come inizio, costa, per un'ora, dunque, è una cosa, di avere, su dei spanto, che da, dopo, biogine, tutto questo museo, soprano del Suso, tutto il suo apposento, è una cosa, che stia, che è, di avere, bella mela, poi, è, tanto, appena fatta, dunque, si può dire, ipertecnologica? ipertecnologica, ma, se ne usi cose fai, di toccare, i commenti, e usare, di questa cosa, pure, che è bella, no? Che, fatti, esperienze, e tutto, con i suoi, esattamente, poi, se ragionamento, è stato il gusto, dopo, essi, a subito, dei tempi, su dei mohi, ma, ho le usi, che, sa gente, che bere, noi, possano toccare, e si, possano spassare, i commenti, anticonnoti, sui, i sagliagli, su, nostri, su. Dunque, contami una cosa, Gabriele, questo è, il Museo Mulag, è uno museo, non su comuni, del Capoterra, che è un museo, in, 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 internazionale, interrebo, esattamente, contami questa cosa. È uno progetto, eh, fatto con, di noi, della Unione Europea, un interrebo, uno transfrontaliero, Italia, Francia, poi, in mano, sui itinerari, sono accessibili, e poi, questo, che questo museo, è accessibile, è accessibile a tutte, le persone, mani, vittime, e, poi, tutti, noi. È, questo, un paese particolare, vuoi, è, è un museo, è, è, sede, del centro, di educazione, ambientali, di Capoterra, che è, è proprio dedicato, a, a sostanio, da Capoterra, e a tutto, sostanio, di Santa Igia. E poi, infatti, in serie da, il museo, dei sostani, di Santa Igia, in su, comuni, delle Capoterra, c'è, se amministrazioni comunali, questo, domo, è, se amministrazione, o no? Questo, domo, e se amministrazione, io, ho, tenuto, il suo compito, di, da fare, gestire, e da, mandare, in Antisi, del sud, 2012, c'è, sul centro, di educazione ambientale, c'è, accreditato, in, in, regione, Sardegna, ed in cui, nasce, l'idea, di, di questo luogo, un bello museo, un bello luogo, di Biri. Bene, cosa tu stessi, ed è un'ausa, tra l'ottacuro, una cooperativa, mi pare che ci pianta tutto, femminas, ma ricordo femmini. Esattamente, noi femminas, è un uomini. e noi, come è stata noi, questa visita, di contare, di questo addombo, di Spadaccino, che avvia, da come è, da Naudui, prima, di Genovese, di Tottotanto, prima ancora, via, da un luogo, di Verrovia, no? Sì, fa la stazione, infatti, invece, sono riconoscenti, come è, questa stazione, poi, da, poti, andati, il francese, andi, da, mezzo, monti, noi, accanto, divisi, questa magnetica, da, venire, noi, e poi, da, venire, in Corsica. Da, marciante, di noi. E poi, il mondo, di questa, di questa, agricoltura, di questa, potenza, di questa, cosa, papai, di questa, bellezza, di questo luogo, su Spad, buona, in cui, varie, un, ottimo, bellissimo, talmente, bello, che, si, spandano, si, e, si, si, dunque, di questa visita, comincia da noi, e, questa, posizione, umano, e noi, appoggiiamo, di scabello, su bello, capare, di nasa, se, posto, se, entri, questo, mobili, e, il fatto, vai. esatto, costo, si, dè, e, costa, sicuramente, a noi, sanassa, si, prace, di, poeta, è, uno strumento, che, si, utilizza, po' piscai, in sostegno, il nostro, architetto, all'uffio, fa, il gusto, su, sgabello, su, particolari, che, rappresentano, il suo coro, della sanassa, e, punti, modulare, quindi, si, puoi, punti, leggeri, se volete fare, come arriva da picciocchetto, sono visitatori, se ne vogliono, uno, uno, se ne vogliono, questo, chi si deve, ti dispone, se non è, e, castigli, in noi, e, in noi, c'è, video, fotodrone, insomma, e ti contai, in questo video. In noi, contai, su, bellezza, questa vita nostra, da Capoterra. Da Capoterra. E poi, è un paghetto tecnologico, poi, ti ha ricevuto, fotografia, di questo, su, che vengono, e noi, si vengono, e, e, se volete, castigli, in noi. Ah, da volete, subito in noi. Si, si, guarda, cosa bella, e questo schermo, mano, mano, adesso, 85 pollici, una cosa, mano, mano, e, dunque, si andrà bene. questo, è, si comincia, del suo viaggio, che vede, in questo mondo, del Samir, di Putanoso, è un'auca, noi, c'è, in Capoterra, l'uso, dei spanto, dei monti, e dei mari, dei stani, c'è tutto il canto, e, c'è un monte arcoso, che è una riserva, del Prumanda, se mi pare, di tutto, se è Europa, no, di tutto, C'è 9.750 ettaro, e 10 con 1, so, quindi. Figurati, è una cosa bella, e c'è Capoterra, e tutto, questo, è in noi, e poi c'è tutta la zona, il Macchiareggio, so, questa, è una bella zona, però, poi cominciai a contare, tutta questa storia, pattiassi di noi, e poi andavo, sul sovrano di Sousa, andavo, andavo, andavo. Gabriele, devo venire, a, su spazio, e su spanto, dei picciocchetti, ma dei mani puri, che hanno entrato a noi, poi, già in questo schermo, mano a mano, si fa entrare, in questo mondo bello, dei sostani, e tutto il canto, ma, noi c'è avuto gioco, su mappa, contami tu, questo primo apposento, e in questo apposento, c'è dei documentari, c'è appunto, di aderlo su uno spanto, che questionano, tra il sostanio della Capoterra, e di tutto, il comuno, che fanno i fatti, del sostanio della Santa Igia, e poi, c'è il gioco, su pomeriggio, e più pioce, e questo gioco, e noi c'è questo, un mangoni, che è per volare, come è che funziona, vado a dire, e noi, praticamente, c'è questo gioco, dove, si c'è la rai, deve essere un mangoni, o una conchè moro, e ti dà, se donare attenzione, hanno sbatti, in tutto, i ostacoli, che ci fanno i sostanio, e poi, siamo appena, attiva, dove si muro i cagli, e c'è tutto, tutto il logo, che ci fanno i nostri, il logo, i spillonelli, che diventano, in questo luogo, incredibili, e tutto, ma da fuori, dentro del sacco, e fuori del sacco. E infatti, noi, il posto, due panelladuras, una, con tutto, la flora, che c'è in noi, con il suo nome, in sardo, e in latino, Dunque, se no, poi ti comprendi, bene, il tuo scosso. E poi, a Guttavatti, invece, ci sono i pilloni, ci sono la savanna, no? Esattamente, tutto, la bellezza, la ricchezza, che c'è in gusto stagno, 466 specie, che diventano, scelte in noi, quindi, una cosa incredibile. Di addirittura bello, dunque, è un documentario da Guttavatti, con tutto, bello, immagino, se ne vedessi cosa, vatta in 4K, poi, ti prendi proprio un bello, dunque, da se ovienti. E noi, Gabriele, noi, sul giro, è manno di adere, se vuoi, è un domo spadaccino, questo è un domo, dei gendari, ricca, meda, ma meda, meda, dunque, se, tenete in meda, a posentus, andavano da una travatta, e tagattavano. Andavano a volare, come in Bollanti e Mangonesi. Ah, andavano da un Bollanti e Mangonesi, andavano, andavano da un bitto. Gabriele, il gusto di essere a sì, sapete, il tuo bitto, come è questa cosa, questo è tutto il bitto? Esatto, non è tutto il bitto, ci sono i punti colori, e il teammatico, e infatti, sul bitto, è questo che, si chiede di onore, della bellezza, del suo balsaggio, che tenete in questo bello luco. Dunque, se noi, praticamente, tenete, un scatto di cabelletto, e questo su oculus, e ti succedete, i tappinti. E noi, praticamente, tutti i buoni, se il gusto, mezza faccio, diventano un Mangone. Ora, se volai, come ti volano, in pizzo, su deloco, su Brubberlo, su della Sardegna. Dunque, se giravo a 360 gradi, su droni, e dunque, se chi ne si pone, inizio, se cassa da noi a Intru, vieni, come si sceglie, bovendo e torta, no? Esatto, come ti Mangonesi. Dunque, questa è un'altra bella esperienza, è toccata a Sardegna, perché non riesci mai, mentre è in alto, dunque, se toccata a Sardegna, a tornare tranquillo, però, questo è bello di avere, Devo ponare, voi spicciocchietti, dios, non goni, voi spicciocchietti, ma voi mani, se tutto. infatti, noi, come funziona? In noi, abbiamo un po' di scuola, abbiamo un po' di turistica, abbiamo un po' di famiglia, è un luogo, abbiamo un po' di gente, abbiamo un po' di chistionare, abbiamo un po' di birra, e abbiamo un po' di cesto, abbiamo un po' di località, diciamo, e dunque, cosa posso fare un po' di birra, con questo video, che si trasmette, a 360 gradi, su Bolo e su Mangoni, non su di noi, si spostavano a un altro luogo, e noi, entriamo dentro, del suo stagno, e vi ho un po' di cesta dentro. andavo a vedere questo stagno? Andavo. Noi, questo è un po' di te, perché è detto, ma è un po' di mani, a dubbi di voi, quando io volevo, con il drone, dunque, con un soccolo, si vede, introdotto, questa zona dei Salinas, e dunque, se avevo usato, se tornavo a pigare, questo argomento, e fai vivi, contando questa storia, tutto, che succede? Esatto, e noi, pure subito, da accanto, io subito prima, faremo i Mangoni, e quindi, pure subito, il Salinas, e come si fa, su Zai, quindi, dell'acqua di su mari, e ogni cesto paghino di Zai, 30-35 grammi, su Zai, finché, che sa, quando la canalizzata, o si trovo, rosa, arriva, a Macchiaredo, dove c'è questa Salina, che è stata, un'idea, des ingegneri conti vecchi, Luigi Conti Vecchi, che all'idea, a bocciare tutto il muschitto, su questa malaria, e all'idea, fai bonificare, questa zona, quindi, al suo posto, da fare come, intanto, ti fatti a Morera, io ripensavo, a fare una Salina, e noi, fai, ho il buco, su Zai. Fai su Zai, ma è un museo, è tutto questo, in noi, sì, che fai, fai, ti visita, guidare, cioè, ti so, tre, dicendo, e fai, fai, entro della Salina, come è tutto il processo, e tutta la storia, che è in questo bello luogo. Noi, signor Pieli, su Zai, cristallizzato, come ti funziona, come è te la produzione? Allora, la produzione, in noi, che c'è in questa Salina, che è questa Salina, la seconda, per un anno, d'Europa, la prima, è in Puglia, la seconda, è in noi, e la terza, è a Sant'Antioco. E' sta succedendo, grazie a suzoglie, su vento, è a sacco, si va a risuosare, ci vengono, le vasca, si evaporandose, e le vasca, si avvantose, e, come tu zai, voi, bene, utilizzate, po', esistrate, se vengono, in maggior parte, in Nord Europa, o, po', se ammessa, o, se ammessa, questo, che va a pausa, dobbiamo dire, in dombo. Andrà bene. Dunque, se dei noi, di questa Salina, il tutto, del macchiaretto, dunque, è il comune di Capoterra, ma, per esempio, di Assemini, questa zona, questa laguna, è tutto il comune di Assemini, ma è tutto questa zona, come internavo prima, tutto il comune, ci ha in noi, confluisciti, e dunque, avendo i territori. E, di noi, dove andiamo? E noi andiamo, a bere, e ti accetti, ad entro, dell'acqua, di questa Salina? Ah, andiamo, andiamo. Dunque, questa posizione, che ti chiede, del Dium, ma, del Porto Manno, voi te noi, casuzzelli, noi, farei conosciti, tutto sul mondo, aonde, si abita, e tutto, no? Su Mangoni, su Tugano. Esatto, e noi, ci punti, cosa, si chiede, a più ti chiede, quindi, c'è, sa, dunanella Salina, che è un'alga, che si va a fare, sa cosa va a fare, della Sartemia Salina, che è, invece, sa cosa va a fare, che si va a fare, su Mangoni. Mangoni, fa quindi, questa Sartemia Salina, dipende dal Rubio, esattamente, questa famosa, gente al Rubio, e poi, questo, voi, se salga, se donanella, esce al Rubio, e bene, arriva a fare, da Sartemia, e Sartemia, diventerà, proprio, al Rubio, ci sono, ma, scusate, femmina, fa, fai, dabbire bene, questa fotografia, ci mangi, da quadra, e fai, ovvio, come ti esci, tra colori, dentro, in Sartemia, e dunque, in noi, per farmi comprendi, in noi, poco conosci, il processo, come ti nasce, in tutto il canto, in Italia, di te ne usci, microscopio, su, esatto, in noi, ci teniamo, su microscopio, quindi, puoi subire, di accanto, e scusate, sapete che, adesso, e poi, ci punti, noi, in noi, ci punti, noi, ci punti, solo, su, di Sartemia Salina, e invece, se salga, tutto, come ti da, fare, di Gustavuro, si, ne usate un microscopio puro, ancora, più potente, onde, puoi subire, a fondo, e a mano, scusa, la piccola, beh, questo è un altro luogo, di avere, che ha spanto, le piccola, cioè, il manno, su questo, questo microscopio, già, è una cosa, dei spanto, la scusa, è di più puro, e, in noi, ci tenete, una, ci tenete, e, ci c'è, in noi, in noi, ci tenete, proprio Sartemia Salina, Sartemia Salina, è una, una, bestiretta, due strani, puoi stare, tra i tre sovoli, una cova, vivere, un anno, e poi, ci conti, maschi, femmini, ah, scelte, quando, se acqua, diventare, troppo salita, vi finti, c'è femmini, ah, vinti, c'è, e, quando mai, sembra io, sta natura, sta natura, e, dunque, se, te, questa, vatti, a un di, noi, tu, non, direi, esatto, su noi, si, ti teniamo, altra, su, è un bene, scolaresco, uno, a Perogna, no? Eh, sì, ti teniamo, ti teniamo su, merasa, quindi, farei una cosa, prusa a mano, andrà bene, andrà bene, e, altra, apposentare, questo, l'occhio, si dà un audio, quando, io, cominciavo, a, si contare, su, la, che, è, dombo, spadaccino, una, domanda, ma, la, sono, soprano, disuso, in noi, ci continuano a posento, su una scantura, se ho già avuto, se ho avuto, i riscaldi, bella, se ti spanto, la, ci sono intro, ma, in noi, ho un di, sì, che, di, sapere, in noi, andau, sapere, eh, sarti, dessa visca, e, ti presento, ai, fisso, di sì, un grande, viscadori, un viscadori, andà bene, andau, andau, in noi, c'è una, rezza, manna manna, poi mi conta, se ho avuto il posto a icci, se ho avuto, tutto questa cosa, se ho avuto la lana, e ti sento, ti domando subito, un sarrezza, tutto questa cosa. Pensando, se noi, se io, lo fio vai, c'è, in noi, c'è il signore fisio, ah, signore fisio, che i sui scantori, banno, sui scantori, banno, chi, sinara, raccomandosi, vanti sarrezza, e noi, lo fio, vanni, i sarrezza, e, e quindi, fai, un collegamento, tra, sa tecnica, e sa, e quindi, noi, sa gente, chi è bene, ari, intreccia, uissa, sa rette, o fai, una, una maniera, da fai arte, partecipare. E dunque, se con, lana, catenesi, noi, a disposizione, un, li piccate un arroco, e fai, su un motivo, che io li dico, e poi, appaga, 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 diventa, una rezza, manna, manna, una prena, le cose. E a finanno, da, sa gente, di taffato, quindi, un arroco, a potuto, su. No, sui scatori, e, ma, non, come te che si dice? E fisio. E fisio, e si. E beh, uno che dice di noi, si dice di noi, e si dice di noi, e poi, a capo terra, ci potete, a scresa, come te o no, si firma da noi, su santo, e tu tu canto. E fisio, e fisì, dunque, si conta, dai commenti, si prepara, tu, si arrezza, se tu canto, e, nasa spuro, se ti arrezza? No, io su, se ti arrezza, però, dei nasa, sono di questione, sui prosennati. Anda bene. Dunque, ma, il tuo fisio, in sostegno, è tutto o amare? No, in sostegno, questa è una fisica, che si farà, in sostegno, si pescherà, lissa, davvero, su fisio, è più bello, che si fa, che si fa, piare in santo, prima, se orata, piccola, non farà, del buono, sapore. Andate a benirare, devo, dei visci, un po' ben, salissa, è meglio, su del suo spirito, della sagarina, che si si capisce, perché non gustano, sapore, quando è piscata, il luogo bello, questa mamma, narraviata, quando è piscata, il suo morto, cambia il sapore, innaffata, e non faria, acce da papà. Gustata la salsa esatta, Gustata la salsa esatta, ma, questo che piscata, noi, in sostani, evidentemente, deve essere buona, di aderis, e non c'è, ma che ha bisogno, di aggiungere troppo salia, no. E già è salia di isa. Dunque, salutatevi, se è fisico, se non andatevi, in un altro apposento, non andatevi a un nudo, e io sono, e tagatevi, andatevi. Andatevi. Dunque, se questioniamo, se è fisico, di sabisca, e noi, entravi, in questo apposento, a me si conta, di sabisca, e c'è una cosa che è subito ben migliorare, pesciometro, e tagli questa cosa. E di una maniera, di questionare, se la gente, che tocca la piscata, subisce, questa stanza sua, poi, se tu piscata, quando hai pittichetto, farei il suo danno, e non mi sa niente. Dunque, se è tutta misura, se è, come dicevo prima, di carina, di spiritto, di vissa, di valaria, cosa, se tu canto, tu, su che c'è questi mari, tocca da rispettare, le misure, se no. Ma, in noi, c'è un'altra cosa, del porto, intanto, in Nassas, e tu mi ha scritto, prima, di Nassas, e questa, qualità di Nassas, ci hanno avuto tre, diverse, se no. In San, c'è questo, che c'è questo, come si varia, da in San Tichidari, c'è stato realizzato, apposta, a questo museo, ed ha fatto, a zio Mario Weissi, è fatto, in giunco, e in all'asto, e quindi, c'è questa antica, e poi c'è una, e poi c'è questa, è questa moderna, è plastica, è tutto plastica, quindi, è vero, c'è questa, costa la Brospago, e c'è questa, costa la Mara De Bruzo, ma, in San Viente, in su mare, c'è questo, c'è questo, in Verde Bruzo. C'è questa, da verde, a noi, di noi, di si spacciare, ci attraversare, anni e anni, e questo, invece, sì. C'è questa, è praticamente, un po' sanguida, esatto, e, questo, che tu capisci, sa bene, è una, un po' di nasa, una, un po' di nasa, un po' di nasa, un po' di nasa, un po' di nasa, è un po' di nasa, e quindi, si usa, si usa la sua città. A fondo, brano, o no? Esattamente, a fondo, brano, e poi, noi, contando su questa visca, come ti fai prima, e come ti esci, noi. Noi, te, un gioco, di picciocchetto, un picciocchetto, sui tato, tu c'esti noi, entro? Eh sì, noi, ci fatti, gioco su, un po' di piu, eh, infatti, tenendo su, uno picciocchetto guru, che si sceglie ad agillo. Ah, esatto, e questo picciocchetto, dai otto anni, su, è un po' di picciocchetto, ma è malo o mera, è malo o mera, non è massero, no? Massero, e vivi, proprio, in sostanio, del capoterra, ah, e, e fare cosa, perché, ora, imparai a fare su un anno. Ah, proprio, no, invece, noi, contai, siccome, te, che si coltiva, retotto, su, 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 si trovano, su, ci punti, spiegare ai spetticheggiosi, come funzionerà il suzai, e come si fa il suzai, e poi, teniamo suvuro, i spicci dei su mari, e i spicci dei stagni. Ah, ci punti, due scaccioni in mano, su noi, a cui ci punti, tutti i spicci dei mari, e dei stagni, dunque, è bella, questa altra cosa, che sta. E certo, e ci spiegiamo su, in mano pur, vorrete, chi vive in mare, e chi vive in su stagni. Andà bene, e questo è tutto cosa, che si ripete, può fare in Nassas. Esatto, questo è proprio, su giuncus, su giuncus acutus, poi tra pungiri, in latino, se si rara, e ci, è bella, è bella, che bella, utilizzata, può fare in Nassas, come si fa, in antica. E noi, tornavo a raccontare, questa storia di Salina, c'è una storia dei conti vecchi, e tutto canto, poi c'è una storia fatta, canto, e tutto canto, e è scomunoso, io no, c'è una storia, su uno dei semi, del Capoderra, ma poi c'è una, il Mazzacastetto, tutti i squadri comuni, che fanno parte, questo territorio. siamo una grande famiglia. eh, e poi, e noi, poi, geograficamente, c'è una, che Capoderra, è questa, un daccava, su Campitano, e comincia su Solci, se mi pare. Esatto. Proprio di noi, comincia su Solci. Esatto, e questa volta, è tutta una meraviglia, che ci fatti, a partire di noi, finisce, esatto, tutto il bello, che sarà su Solci. Bene, bene. facciata noi, anzi, si può suonare, che ha, poi, spicciocchetti, su certe, altra scosa, di adere, su bello, può giocare, può conosci, può bidi, e può bidvi un'esperienza, poi, ti ha gusti questa cosa, che, può usare, se può fio fare. Proprio una, visita esperenziale, e dunque, chi ne entra, dai noi, in Mulag, ad a conosci, il suo territorio, in cali, si sia maniera, in 360 gradi, in immersivo, in 4K, in gioco, e in materiale, bioso di adere, dunque, sei multimediali, virtuali, reali, c'è, donna galisia cosa, e, e, moide, gusta posento? Andau su a toccare, e a giocare, con, con suvrago, andau su a giocare, bello usato l'uogo, si, 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 andau su a giocare, con tutto sa, il senso, su che tenenus. Andavene, andau su. Duca, sai noi, capite, si vuole toccai d'otto, no? E proprio, saposento, dedicava, e, sai, hai senso, su no, adesso, potevo toccai, e, eppure, fragaigan qua cosa, no? Contami, i tasuzzei. Praticamente, provo a ponere una mano a lui, e devo provo a ponere una mano a noi. Ah, vieni a spagopago, e c'è, uno bicco, uno bicco del mangoni, questo, esatto. Ma ci vuole, a metter, altro bicco, come dire, ah, questo è il tae, una spattola, sai? E dunque, se ad ogni, ad ogni cosa, ci vuole il bicco, se vuole usare il gusto dei tae. Eh, il gusto è di uno villone, che si serve a chiurlo. Ah, chiurlo. Chiurlo maggiore. Andai bene. E noi, si vuole, toccare, e indofinare, a noi. Esatto. Cioè, ci vuole, si ammarrà, ma questo è un bicco del tangone, e ci vuole, tu, 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 un mese, questo, punti a dimensioni reali, e ci vuole usare a spiegare, a questa gente, i tabappi, anche voi, tanti su biccaicchi, e commenti, e approfondire, scuriosità, e dei spilloni, che vi ho su voi, prosennati. ma, ti apriamo, frago buro, poi, e preparare un'altra cosa, che vi ha detto su, una cosa bella, cosa succede? E noi, che tu, ti muovese, ora, se frago, tutto frago su, dei matti, c'è, che c'è la città, di laguna. E' una cosa bella, un'altra cosa bella, ma, un'altra cosa che mi ha disposto, è, che teniamo a grositare, che comprendi, che ci ha tutto soco, ma, non è soco, dei sottotitoli, se c'è questo cartellone. E noi, faremo sapere, come ti, biro su noso, e come ti, biro su altre bestie, come ti, biro su gai, come ti, biro, i spilloni, che, punti noi, e come ti, biro su cani, che, stessa notte, puro. Ah. Quindi, è una cosa, abbastanza curiosa. Bene, bene, e tutta questa scusa, di avere, una bella, una bella, una bella, punti stetti ha fatto, ad esempio, artigiani, su un altro, e tutta un linn, e dipinta, a mano, quindi, è una cosa, è una cosa, di toccare, di sperimentare. Bene, di noi, però, si può, spostare, su un altro, apposento, dopo più prima, che c'è uno, un bello schermo, mano a mano, e altro gioco, su altre cose, se avevo, come dire, un po' spantane, e spicciocchetto, se il visitatore si è tutto, il mano si è tutto, dunque, si è andato a giocare, andato a giocare. o in noi, gioco su, ma ci punti mangonisi, no, e ti appunti, questo è, dappi adesso, perché, uno appena nasce, eh sì, appena nasce, non è, a rubio, eh, questo, facendo un bruttano attrocco, una rosa, facendo, un po' di moviti, aici, si vorrebbe, come ti bolla, esatto, e questo bolla, e questo è, come ti, fatti, in natura, in natura, poi, tu e noi, c'è, hai fatto un'unione, esatto, questo è unito, adesso, mangoni con il suo, che è proprio, manna aici, e subito, che adesso, mangoni, adesso, su biventi, si servono, asilo, fatti, biventi in comunitari, perché fatti un terro, questa cosa, c'è fatto, con materiali particolari, fangu, esatto, questo, su mangoni, dove, con questa, con questa terra, ah, con questa terra, c'è un materiale particolare, che, da sembri la mera, ma, questa forma è c'è, questa forma è c'è, c'è, è un gappello, dove, infatti, questo, è un gappello, in isolotto, su protetto, su pochette, altrimenti, in scanzi, specialmente, si va a fante il gappello, certo, dunque, in noi c'è, uno gioco, che c'è Gillo, che è il malandrino, di noi, che si va a fai, sul ballo, su mangoni, e, come è questa cosa, sul ballo, su mangoni, come è, se veniva a conca, questa cosa? Se veniva a conca, poi, ti depisci, di Ottavio, che ha, a tre anni, su, su mangoni, sinistra, ora, in cominciare a ballare, poi, si depisca, copiai, e depisci, riportati, e quindi, fai, che tu, su, visi, fai, una, un ballo, del gruppo, si muoviti, tutto, in sa, in sa propria maniera, in santo, io pensavo, ma poi, tu non fai, spaziai, più, su e manno, su, e, fai, questa danza, particolare, pensando su, se stava, conca, te vai, questo gioco, bello, dunque, se noi, cesti, è bello, quella, c'era, una telecamera, uno si pone, di noi, a facci, cassa, ragillo, e le torri a fare, tutto un movimento, se hai, si, su un setto, a totto, poi, ha, vinto, sul punteggio, romano, esatto, e si, ti portarà, a domo, su video, e si, ti portarà, a domo, e un'agua, e ci vorrei subire, tutto scoloresi, questa, la gente è convinta, che ha avuto, tutto il rubio, però, questo che teniamo, su noi, che esistono, il fenicottero maggiore, e, ti porto, la bianca, la rubia, e la niente, andate, e, questo è, tra poco, come è, tu, e là, come è, come è, il culto, quindi, questa è, questa è, la taria, la cadena, esatto, un metro e cinquanta, ah, quando tu, io, so di atteso, non pari di dieci in manno, e poi, questo, che tu, se rientra, la gente, a rubia, poi, te, santo, lo so, facendo un basciutello, e, questo, facendo un prosadto, su dei santo, andate bene, e, ora, andate, un altro apposentato, bello, c'è tutto, s'aggiornata, praticamente, comincia, da, a, 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 commento, presciti, e poi, rieus comenti, scuriccara, ascuricatrono, andate sul sedere, ma, ma in noi andiamo su in pari, in cosa sta apposentando, dai io. Andiamo su su Stani. Gabriele, tutto questo spannello si fa in Tibiri, proprio su Stani, o su il locuso, ma in noi ci sono tutte riproduzioni, bella, tutto un linna. Tutto un linna. Tutto un linna, bello. Tutto un linna e pinta la sua mano. E pinta la sua mano. In questo apposento, però, c'è di avere una bella suggestione, poi il picciocchetto sui visitatori, si pone in Tibiri, tutto questo pillone, tutto questa cosa che ci sono in noi, e legge i testi. Ma c'è un'altra cosa che vorrei di fare, intendi proprio i sabosi, che è di ognuno dei gusti pilloni di oggi continuare. Come ti funziona? Esatto. E noi, praticamente, i commenti che si usano in su Stani, vuoi, Ottavio, insistare, fare basca mera, c'è mera muschietto, e quindi non fare andare sempre. Pensando su se bene la conca deve fare, e noi, come si usano in su Stani, quindi, come si usano in su Stani, e poi, come si usano in su Stani, e poi, come si usano in su Stani, intendi i spillonetti su chi è andata a Mericello, e questo su chi è andata su Notte. Dunque, i commenti, venga con questo tablet, e ci fate vedere come funziona tutto questa cosa, poi, è vero, tutto si entra da intro, poi ci continuano con questa bella fotografia, e tutto tanto, però, se tu, vuoi sentire un suzono, un sabosi, un bilanello, poi, se... poi si... racconti e viaggiare i commenti, se non lo faccio. In modo che usano basciare il volume, non si intende già in un'altra, ma quando faccio il bisiclio, si intende a forti cura. Gabriele, prima però, andai in Suttimo, a Posento, dove c'è tutto il libro, e tutto il canto, e mi vuoi fare i birri, con questa bella suggestione che mi ha fatto birri di lui, cioè, uno entra da noi, e poi ritatturare, poi l'immaginare, ritatturare in... in Suttani, praticamente, in tutte le situazioni, si deve stare a dire. Poi io cominciare a fare i birri, come ti è, quando avresti, dunque, se cominciare, su questo primo momento, questa giornata, e poi mi fai i birri, quando ho scuricato, e tutto il canto, cominciare a usare, cominciare a usare, aspetta che noi, avversiare a usare questa luce, e dunque, se capire questa, questa atmosfera, di quando cresce. Poi, ti succede, se a diri, di ovire. Poi, noi, se a diri, andare in antes, come ti succedere, doni a diri, e su Stani, e poi, se a diri, calare. E noi, se a diri, a posti prangio. Eh sì, e noi, a per la pello, di venterà. e a su notte, e a su notte, cosa succede, che i spillonetti, che vivono a me, si gira, e si gira, si fai fuori, da altri spillonetti. Ah, adesso, sono tenendo il sonno. Sa stria, tanto è. Sa stria. Dunque, e noi, andiamo su un basso, torniamo, accanto, a cui io cominciamo, e in cui, si salutiamo, e tutti, e ti vogliamo sapere, che ha il libro, e con essa disposizione, del suo pubblico. Andiamo. Gabriele, e noi, salutiamo i visitatori, i picciocchetti, e tutti, e tutti, e tutti, che è successo, in un mondo, che è più, di noi, libri, gioci, gioci sardini. Eh sì, questo, ci fanno i gioci sardini, ci fanno i libri sardini, un po' umano, e poi un po' di ticco. E poi un po' di ticco. E dunque, se volete, stentare in noi, prima di s'indandare, lì, che è un libro, Comporaglia, no? Questo è proprio, un bookshop in noi, Esattamente. Si vuole subbuffare, un caffè in pari, e scambia i quattro fuori. Tu, che sono un caffè, e tu piccate su un pari. E una cosa, noi c'è pur tu sali, che si vuole Comporaglia, però noi sali di noi, noi sali de... Noi, di questa salina, di noi, e di questa salina, amica, di San Antiovo. di San Antiovo, aonde ho registrato, in suo museo, e su Mari, sempre con Gabriele, un'altra puntata, di cose belle. Vi ha tutto questo, delle belle cose, e poi, salutiamo a Gabriele, Gabriele D'Aso, tutto, salvo operativo, che si serve, come dobbiamo riuscire, e questo è tutto mediterraneo. Ah, ecco qua. Dunque, ho connotto, su Mulag, su un museo, a ogni punto, ho fatto, il doppiaggio, su un franzese, ho scritto, nel franzese, questo è un museo, internazionale, uno progetto, interreg, e dunque, a poi in poi, si ferma, a oggi, ci saluta, a Gabriele, ma, con voi, c'è una altra puntata, questa puntata, benidora, ed esce da un'altra parte, questa sardina, come ti fate, o Donia Gira, no? Dei noi, del Capoterra, si andavano a Geroni, a Geroni, zona di Sajara, e dunque, se in Guni, sicuramente in Sajara, ci sono tutti, scuadetti, proprio, di questo luogo, hanno fatto, un museo etnografico, ma un museo, maschalmente, dedicato, proprio, a scuadetti di Sajara, e dunque, si andavano su Geroni, e lo conoscevano, su un pari, poi, se ti indica, una cosa, ma, questa puntata, benidora, se ti fai conoscendo bene, sulle tue cose belle, se ti fai conoscendo, in Guni, se non conosci pure, questo squadetto, sulle terelle, sulle terelle, sulle terelle, grazie a tutti, grazie a Capriere, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, a si vede anche un saluto, a si vede anche un saluto. a si vede anche un saluto, in Prentas 2020-2021, lei regionale 22-2018, articolo 22-20. grazie a tutti,